Sì, grazie. Io credo che la mozione, per quanto abbia un dispositivo soft, non possa che aver aperto un fuoco sulle problematiche e non si poteva che risolvere in questo modo, nel senso che col bando aperto le interpretazioni autentiche o le modifiche in corso avrebbero semplicemente aperto le fila dei ricorsi. Quello che è reale è che magari dobbiamo lavorare anche noi come Consiglio e le commissioni competenti su delle linee guida per i prossimi bandi dei minimis, perché abbiamo riscontrato tutti quanti che inserire dei punteggi troppo alti di premialità per un numero elevato di promesse di nuovi posti di lavoro, poi di fatto diventa penalizzante per coloro stessi che liberamente hanno fatto questo tipo di proposta senza essersi premurati prima di verificare se questo tipo di adempimento poteva essere soggetto a essere garantito da una fiduzione.